Sono 14 le tonnellate di stupefacenti sequestrate questa mattina dalla Guardia di Finanza al porto di Salerno. Si tratta di anfetamine, circa 84 milioni di pasticche, con loco Captagon, prodotte in Siria dall'Isis per finanziare il terrorismo. Il valore della droga trovata dalle fiamme gialle in tre container è stato stimato in oltre un miliardo di euro. La droga era nascosta in cilindri di carta per uso industriale e macchinari costruiti in maniera tale da impedire agli scanner di individuare il contenuto. Il Captagon, spiega una nota della Guardia di Finanza, viene smerciato in tutto il Medio Oriente ed è diffuso sia tra i combattenti per inibire paura e dolore, sia tra i civili perché non fa sentire la fatica. Prodotta inizialmente soprattutto in Libalo e diffusa in Arabia Saudita negli anni 90, questa sostanza stupefacente è ricomparsa nei covid terroristi, come ad esempio nell'attacco alla Bataclan di Parigi nel 2015, ed è perciò stata soprannominata la droga dell'Isis o la droga della Jihad. Secondo la Dea Americana, l'Isis ne fa largo uso in tutti i territori, su cui esercita l'influenza e ne controlla lo spaccio. Una volta avviati gli impianti chimici di produzione, è facile per l'Isis produrre ingenti quantitativi anche per il mercato mondiale delle droghe sintetiche. Due settimane fa, sempre a Porto di Salerno, gli specialisti del GICO della Finanza di Napoli avevano intercettato un container con un carico contenente 2.800 kg di asci e 190 kg di anfetamine con lo stesso identico simbolo Captagon.